guarda andrea come lavora allora abbiamo sistemato un bellissimo moon patrol stiamo sistemando ha un po di di buchi e delle botte che ha preso ma la cosa più bella è nel suo interno e cioè abbiamo inserito questo schedino qui sempre di hikes go save come vedete ha il il plug per andare in internet perché oltre a mettere il free play alla scheda originale ha la possibilità di memorizzare il record e come vedete il record più alto al momento anche se piccolo è il mio cioè di ant no di and veramente bello abbiamo sistemato il monitor abbiamo fatto una rigenerazione adesso sembra quasi un lcd da quanta lucentezza se ti vede un po bianco c'è troppa luce aia non sei capace non sei capace quello piccolo lo devo sparare da lontano non da vicino bravo ma che bravo scusa giochi tanto vuoi giocare a te bambino vuoi giocare a te ma quando giochi tutto il giorno bambino no game over 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 game over